allora adesso devi fare l'intro però dai amiche buongiorno amici amici di Bergamo Grave iscrivetevi iscrivetevi al canale di Bergamo Grave che è gratuito e attivate la K non l'hai studiato la carbonara no la campanella la campanella la campanella oggi siamo alla Dovarenberg e tu sei Mauro di Gorgo Gravel ok così dicono ma che è incognito Christopher si è prescritto alla burrata grave Christopher oggi ti abbiamo tradito l'abbiamo fatto fare a Mauro l'introduzione va bene non ti sei offeso ti faccio fare ti faccio fare l'uscita allora ok ti taglio le gomme dopo aspetta Paolo dobbiamo far vedere agli amici la tua aerodinamica guardate guardate qua che aerodinamica vedete il flusso d'aria viene deviato un po' Paolo guadagna il flusso d'aria viene almeno dai sessanta e sessanta watt ecco ora siamo quasi al trentesimo chilometro temperatura 4 gradi oggi indossiamo per la prima volta la divisa abbiamo un mondiale di eccezione rosti e sei protagonista abbiamo fatto uno slogan così così su due piedi 4 gradi ragazzi divisa manica lunga ovviamente zero wind quindi con la protezione solo sulla parte del busto del petto della pancia secondo dio sotto una termica leggera pelle e si va tranquilli che dire qualità figlio Emiliano qualità senza età ecco penso che dopo questa rosti ci manderà un po' a stendere però era doveroso più rosti per tutti i ragazzi non ce l'hanno però non volevo dirlo Cristopher siamo al giro del boa cosa cosa hai da dirci allora per fortuna non c'è ancora morsa il serpente eh però allora siamo al cinquantaduesimo chilometro si speriamo di arrivare presto al ristoro che abbiamo fame e poi faceva un freddo cane stamattina ma adesso c'è il sole il percorso è carino eh morale medio alto mediocre medio alto medio alto poi morale del gruppo medio alto Paolo scatarra davanti grazie a una doccia mi sento un piccolo del pernetto che ho fatto io esatto la scena esatto no 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 troppo lo perdoni si si un bravo ragazzo ok ecco tecchino ma già lo mi ha mangiato bevuto abbiamo bevuto facciamo il bagno ci vorrebbe diamo un bagno e andiamo? c'è un coccodrillo lì che ci guarda possiamo anche dalla vodka anche quello coccodrillo non ce l'aveva finiti? è 20 km io che li ha finiti allora devo dire questo percorso ha finito coccodrilli come non ce li aveva avuti? ha gli orsetti orsetti coccodrilli ma mica li avevi finiti? sei un infame tira fuori scappa da caricare dai stai facendo il video è una cosa fisiologica cos'è il gel? la pasta asciutta il gel è la cacciatora è come se cioè il gel è la cacciatora sa di sugo si beccano e si fanno un cacciatore male come c'è? caricatelo che è di gorgonzola questo qua gorgonzola gravel è salutato? comunque questo per il momento che i due tipi avevano il covid perchè ho paura che ne porto un avevo poi ok avete capito? ragazze come si chiamano? destra come destra? e qua dove cazzo va? sinistra no di qua gravel range destra eccole i celti i celti Severino allora chi l'ha visto? fate partire la sigla di chi l'ha visto per favore buonasera amici telespettatori anche siamo tornati questa sera alla solita puntata di chi l'ha visto questa sera vi parleremo della scomparsa di un nostro caro amico ciclista Severino un ragazzo di 60 anni un ragazzino di 60 anni che questa mattina abbiamo visto a bordo della sua Cinelli la mamma ha detto che l'ha visto l'ultima volta ieri alla partenza della Novarenberg e in questo momento che ore sono ragazzi? mezzogiorno è disperso il buon Severino ancora non si vede chi ha notizie può comunicarci info grazie diffidate dalle imitazioni questo è un rudun fake fatto in Cina e copia il rudun da dove partiamo con le social ride e con la Bergamo grave attenzione nulla che venire con rudun non fatevi ingannare da questi fake cinesi a 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 ecco Novara Chris fai a vedere Novara dove è Novara? è di là 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 vedete il rudun si vede tagliamo tagliamo Bergamo grave di là di là tagliamo di qua qua vogliono tagliare non dategli retta tagliamo tagliamo non dategli retta chi taglia è un infame bisogna fare sempre tutto il percorso Emiliano sei in crisi? sei sicuro? adesso facciamo cantare Amedeo perché c'è il riso no dobbiamo far cantare Amedeo Amedeo dai facci una canzone di Amedeo Minghi e adesso Mauro ti aiuta a intonare dai dai fai fate qualcun altro io lo dico dai magari ti chiamerò forza dai oh 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 figlia non ho ancora iniziato a cantare che già stavamo cadendo vabbè piantiamola qua piantiamola qua cosa dite vai vai dai ameteo dai andavi di brutto negli anni 80 negli anni 80 andavi di brutto non mi fare così vabbè niente ameteo non è in forma ragazzi ha perso la coda ha perso il potere come il sansone vabbè con questa finestra dire che possiamo allora le cose sono due o no acquisitiamo intanto si ammazzano milioni di followers o perdiamo quei pochi che ci sono per cui oh 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 Ristoro dei campioni Aspetta rifai Ristoro dei campioni Mirretta e brioche alla marmellana Dobbiamo fare la chiusura del video Fagli vedere come rintegriamo le fatiche E adesso 105 km a piedi Adesso andiamo a prendere il pacchettino gara Iscrivetevi al canale Diciamo Venite al canale della Bergamo Gravel Poi venite alla Social Ride del 26 Portate gli orsetti alla vodka E poi ci vediamo al prossimo video Ci vediamo al prossimo video Fagli vedere bene la maglietta Bergamo Gravel Instagram, Facebook e Youtube Bravo Alla prossima